Il punto di partenza che accomuna tutte le persone che finiscono sulla strada è una grave crisi sul piano affettivo e relazionale. Per qualcuno è più facile dire che se sapevo ci sarei andato prima in strada perché lo stufa di aiutare gli altri, piuttosto che dire che la tua famiglia ti ha dato un calcio nel sedere. Quello che noi cerchiamo di fare normalmente è di lasciare che le persone parlino loro, a noi di non dire niente. Ci sono delle distanze da rispettare nell'avvicinarsi alle persone. Quando tu vai per strada la notte e vedi una persona che dorme per terra e non è che c'è in alcun minuto i fiondi, vedi in velocissimo con passo marziale buonasera come va, vedi? Qualche volta si incontrano persone che hanno una tale folga, una tale desiderio di aiutare ma non si rendono conto del malessere delle persone. Spesso le persone che sono per strada sono persone che hanno dei problemi che noi immaginiamo che abbiano. Per esempio di salute mentale. Fare un intervento a sproposito a volte può essere dannoso. Ma io non pensavo. Povero, già povero di persegere i suoi problemi, ci manca ancora che io lo vado a utilizzare per sentirmi a posto. Senza dimora in spagnolo diventa sinogar, che è senza focolare. Senza tetto, senza focolare c'è una bella rottura nel mezzo quando usi un termine piuttosto che l'altro. E' come quando noi siamo attraversati da un dolore molto forte, non riusciamo a fare niente altro. Il focolare è uno degli affetti, il luogo delle relazioni significative, il luogo del riparo. Per cui a una persona così frammentata nelle relazioni, se tu gli proponi la casa, il lavoro e altre cose, sarà talmente lacerato all'interno che non reggerà. Nei paesi del nord d'Europa, dove lo stato sociale è molto più forte che da noi, il numero delle persone sulla strada è abbastanza simile a quello che c'è in Italia. Ma come mai una persona con dei problemi di quel tipo lì nel nostro paese o li definì per strada? Non ci sono risorse, benissimo, non ci sono risorse. Le risorse mancano sempre per definizione. Come sono allocate le risorse? Che tipo di privilegi che ci troviamo a dar per scontato di dover mantenere drenano risorse che potrebbero essere utilizzate per quella roba lì? Le persone che stanno male, i poveri, sono un richiamo per tutti e devono essere visibili perché la vista della loro sofferenza ci deve coinvolgere, ci deve aiutarci a porre delle domande. E di andare nella direzione di una restituzione di responsabilità a tutte le parti in caldo. Una delle parti in caldo è certamente la persona che si trova in quella condizione, ma poi ci sono tutti gli altri. Se eliminiamo la visibilità della sofferenza perdiamo un elemento dinamico che ci aiuta a combattere la sofferenza e a rendere il mondo diverso e migliore. È una riflessione che ti ritorna un po' addosso, che è scomoda perché ti chiama in causa. E non sto parlando di sensi di colpa. Il senso di colpa è nemico del senso di responsabilità, bisognerebbe riuscire a bandirlo. Il lavoro più grosso è quello di aiutare le persone a fidarsi dell'altro. E quando questo avviene comincia una relazione, comincia una relazione con noi e ciascuno la vive con le sue capacità e con le sue potenzialità, i suoi limiti e le sue fatiche. Io non voglio dare per 30 anni un pallino alla stessa persona. Io voglio che quella persona lì abbia la possibilità, per il tempo che ci vorrà con lui, abbia la possibilità e non la certezza di poter non dover essere più nella condizione di ricevere un pallino per le sere per mangiare. Noi forniamo degli strumenti per aiutare la persona a vivere sperimentando e a comprendere in quello che sperimenta le proprie capacità, giocarsela e essere contento di quello che ha e giocarselo bene e rendere al massimo. Dalla comprensione di sé alla progettazione, all'azione. Grazie a tutti.